Va che bellino che è Torbion con la bocca spalancata Che poverino è talmente basso che si deve sempre mettere davanti Eeeh vabbè Priviet a tutti ragazzi e benvenuti qui incredibilissimi in questo nuovissimo video Oggi in un altro video di Overwatch Ma non della serie che vi sto portando Ma siamo qui perchè Eeeh Che giorno è oggi? 24 si 24 ieri hanno iniziato Eeeh non so dirlo mai in italiano scusate nella vita Ieri è iniziato l'anniversario di Overwatch E per celebrare questo momento Hanno messo un botto de roba le moti con dei balli Hanno messo un botto de skin Infatti come potete vedere ho 36 loot chest Quindi in questo video faremo mega pack opening Lo dico così perchè per enfatizzare un attimo Per prendere un attimo per il culo tutti quelli che aprono i pack opening nel mondo in qualsiasi gioco Io ve lo dico Io miro a questa A questa Che porca troia un power ranger insieme alla skin di Genji E miro effettivamente a tutte le moti con di ballo degli eroi che uso Quindi senza perdere altro tempo iniziamo subito lo spacchettamento Let's go Che visto che sono 36 non penso taglierò Ci sono quelli che fanno 100 loot 120 loot box che manco tagliano Quindi 36 non penso vi taglierò Dai Leggendario il primo forziere ci sta Dai che ci sta Ma fa culo ma fa culo ma fa culo ma fa culo Mi ci avevi fatto crede verso de merda No mi ci avevi fatto crede Però l'emoticon di ballo Diana E vabbè C'hai una certa età Però però stai calma C'hai una certa età Ti viene infarto Mi ci aveva fatto pure crede sto stronzo Leggendario il secondo forse No manco per niente Vabbè è tutto grasso che cola in fondo Dai 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 che troviamo Dai che troviamo Eeeh ma popo No vabbè ma sta posa di Reaper Quanto non è azzeccata per Reaper sta posa Vabbè tutti gli audio poi me li Che è successo? Ah no ah no Tasto sbagliato Dai Dai fammi un regalo Fammi un regalo Fammi un regalo Ma vaffanculo la skin di Zaria Va bene va bene va bene Dai dai che ci sta Dai che ci sta No non ci sta per un cazzo Non ci sta Non ci sta per un davvero Proprio per niente C'è Io non posso spendere mille euro Uh bella Quella per soldato Si mia Mia Ma questa miravo C'è C'è ma guarda che bellino Anche lui c'è una certa età Ma se vuole divertire Che bellino Che bellino Enquipaggiamo subito Dagli regà Dagli regà Che qui troviamo il mondo Il mondo Ah la skin per Diva La skin per Diva Che è un personaggio Che mi piacerebbe utilizzare Però ancora Sto cercando di imparare Vabbè Vabbè Non importa Non importa Già una leggendaria L'abbiamo trovata 28 loot chest Vediamo un po' Cosa potrebbe capitare Che a parte hanno messo Le stesse identiche immagini del profilo Ma soltanto ridipinte in oro Vabbè 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 C'ha i suoi metodi Per accapararsi Viola Viola Mi piassa Ah ok L'emoticon di ballo Di Widowmaker La ballerina classica Va là Va là Che ve faccio vedere Va là Prossimo forziere Dai così Dai così Viola Mi piassa Viola Cazzo Ci avevo voluto più Io miro anche All'emoticon di ballo Disegnata Porco due Mannaglia Vabbè Poi ovviamente Giocherò Avevo lasciato Overwatch Per un po' Per Rainbow Six E Paladins Per un pochino Mo vedremo Credo che giocherò Sempre a Overwatch In questo periodo Soldini Che comunque Sono sempre Graditi Che tanto Le skin Costano 3000 all'uno Mortacci loro Sti tirchi De merda Vabbè Vabbè Non importa Non importa Vabbè Non si può essere Sempre felici Nella vita Non si può essere Sempre felici Dai Overwatch Fammi sto regalo Non mi sto Non mi interessano Queste tre blu Non mi interessano Porca buttana Leggendaria Leggendaria Ci sta Cazzo Simmetra Vabbè Carina Cioè Le leggendarie Però Per gente Che quasi Non uso Vabbè Poi ci sta L'emoticon Di ballo Di sombra Che alcune Emoticon Sono prese Da video E altre Cazzate varie Di internet Vabbè Vabbè Intanto Ce l'abbiamo Intanto Ce l'abbiamo Dai 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 Dagli 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 Con soldato Dagli Con soldato Viola Viola Ci sta Jankrat Mi piace Jankrat Jankrat Minchia Anche lui Mi piaceva Ave l'emoticon Del ballo Dagli così Dagli così Che spacchiamo Tutto Spacchiamo tutto Non in questo In questo forziere Magari Magari Nel prossimo Dai Dagli così Leggendaria Ce l'ho provato Ce l'ho sperato Ma Vabbè Vabbè Dai che qui Dai che qui Leggendaria Leggendaria Sì Cazzo Sì Finalmente Una skin Decente Per il cazzo Di soldato 76 Non quelle lì Baffute Col caschetto Militare No Questa è bella Questa Porco Due Minchia Dai così Mi piace Come loot Come spacchettamento Mi piassa Mi piassa Quanti forziere Ci sono rimasti 15 forziere Ancora 15 forziere Di speranza Ah May Questa che è Di May No Non volevo questa Volevo May Che mi dava May Bella questa Mi piassa Mi piassa Dai Tutto grasso Che cola Come è Come dico sempre Dai 14 forziere Rimasti Viola Viola Ah che bella Quella Di McCree È spettacolare Va là Va là Come si diverte Cioè no Vabbè Con queste emoticon Ci faranno Quando tipo Faranno le azioni Migliori Faranno Ci faranno Tipo dei troll Assurdi Cioè Cioè Io non Voglio immaginare I video Che usciranno Fuori Vabbè Vabbè Qualche forziere Così Cioè Posta Che tanto Abbiamo trovato Un bel po' Di leggendari Abbiamo trovato Che devo dire Che c'ho Abbastanza culo Alcune volte Altre volte Il bastion rosa Poi c'ha il suo Perché C'ha il suo Perché Il bastion rosa Dagli è così Dagli è così Magari Non in questo forziere Dagli è così Però Dagli è così In generale Siamo positivi 10 loot chest Rimanenti Cioè Cazzo Che in 100 loot chest No Il telefono No Cazzo Non ti conosco Via Via Numeri Estranei Che mi chiamano Va bene Viola Viola Va bene Grasso Che cola Grasso Che cola Siamo a 8 Io spero Di trovare Zaria Zaria è troppo Mitica La skin di Zaria Il Power Ranger Rosa Praticamente Leggendaria Bastion C'è Ma Stare a capire 4 leggendarie In 36 Che in 100 Non ne trovano Manco Manco mezza Mi piace un tot Bastion Proprio un tot Mi piace Bastion Poi anche Diciamo che miravo Anche a quella Di Ma no Vabbè Ma no Ah vabbè C'è No vabbè Ma cosa stiamo trovando C'è Ma cosa minchia Stiamo trovando C'è Non c'è Credo Che c'ho Un culo No che bella Questa di roto No questa di roto Che spettacolare Equipaggia Ma poponao Poponao Equipaggia No vabbè No vabbè Bellissimo Sto pack In 36 Cosi C'è Una cosa Spettacolare No vabbè Non c'è Credo Che quasi quasi Con 3000 Mi compro Da solo La skin di Zaria Ma è una cosa Spettacolare C'è No vabbè Bellissimo Reaper Boy Reaper C'è Un movimento De gamba Un movimento Di tacco Che proprio C'è Farebbe Farebbe invidia Ogni ballerino Farebbe invidia Facciamo subito Con le Due Forzieri Rimanenti Se nell'ultimo Troviamo Zaria Io urlo Io urlo Se troviamo Zaria Nell'ultimo Porco 2 No io davvero Urlo C'è Urlo No vabbè Eh vabbè Oh Regà Porco 2 Abbiamo trovato Il mondo C'è Zenyatta Non abbiamo trovato Per Zenyatta Non abbiamo trovato Un cazzo Però abbiamo trovato La skill leggendaria Di soldato La skill leggendaria Di diva Simmetra E bastion Poi non mi Non mi Ah io volevo No io volevo Assolutamente La cosa di fara E Le mot di fara Di ballo Che troppo bella C'è guardate Si sente pure il rumore Da chitarra Come se C'è no vabbè Spettacolare No vabbè Troppo spettacolare Comunque abbiamo trovato Tanta bella Robetta Comunque signori Se il video vi è piaciuto Pollice in su Commentate Condividete un prossimo video Col vostro Yuri Maverick Da Svidania Grazie a tutti